Quella primavera di sangue, se c'è scritto Utu devi uccidere, se c'è scritto Tuzzi devi morire. Cecil, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo andarcene prima che barrichino le strade. Tu sei Utu, tua moglie è Tuzzi, o tu sei Tuzzi, tua moglie è Utu, non era mai importato niente a nessuno. L'unico rimedio è lo sterminio totale! E lui diceva, la testa del Tuzzi deve rimanere lì, deve rimanere lì. Lassami! Dimmi dove nascono i Tuzzi, Olanda. Non tocca la mia fila! Non tocca la mia fila! Che cosa avvenne nel genocidio più terrificante al mondo sarà la storia vera che state per ascoltare e cercare di spiegarvelo. Una storia dove io sarò Augustin, giovane operaio Utu. Mara sarà Cecile, maestra di scuola alimentare Tuzzi. Immaginate che sia un film. Coroare su sul videos, il problema è vero al suulismo. Ho abbiamo fatto un film di spiegarvelo. Di Hearing 2006, per ora velo a te algumaiera. In mentally, per me voglio io, lappe avvenire trovare eco. Voi pursue una storia, un film di spiego da cioca. Seguim il pads evangelio du вроде, alla te ragazzani ora. faulta, donna merito. Io, la mia família! Grazie.